Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi ho un annuncio da fare visto che nel video della TBR dei più attesi del 2019 mi era venuta in mente una cosa io vorrei rileggere quest'anno alcuni dei miei libri preferiti ma non solo altri sono libri che ho letto tanto tempo fa quindi che vorrei riprendere, mi piacerebbe rileggere eccetera però insomma visto che alcuni dei titoli che vorrei rileggere penso possano essere una buona occasione anche per spronare qualcuno di voi e ho visto che questa cosa qua vi ha preso abbastanza visto che c'è stato un po' di entusiasmo e quindi sono molto contenta di questa cosa insomma perché non farlo insieme ovvero quella che è la mia idea che è molto vaga e confusa come tante altre purtroppo però insomma l'idea è proprio quella di creare una sorta di gruppo di lettura tutti insieme sarà un po' diverso rispetto ai gruppi di lettura canonici purtroppo perché in questo caso sarò io a decidere i libri da leggere lo spirito con cui però prendere questo gruppo di lettura è quello che contraddistingue la mia totale esistenza ovvero che se quello che vi propongo vi può interessare partecipate altrimenti ci vediamo al prossimo titolo se vi fa piacere in totale libertà visto che l'idea insomma che vi avevo presentato nel video vi aveva convinti anzi in tanti me l'avete scritto che vi piacerebbe alcuni dei titoli che ho in mente altri mi verranno in mente insomma piano piano comunque vorrei partire e quindi bando alle ciance vi spiego un po' come funzionerà brevemente come funzionerà la cosa dal 15 di febbraio al 30 di marzo leggeremo il primo libro insieme ho messo un mese e mezzo perché solo un mese magari per un libro può essere poco a volte no e quindi insomma onde evitare che qualcuno si perda per strada o non abbia abbastanza tempo un mese e mezzo mi sembrava un tempo sufficiente poi ovvio che magari insomma dipende po' sempre dai ritmi di lettura nel caso un mese e mezzo vi sembri poco magari la volta dopo ci diamo un paio di mesi e non più solo uno insieme il primo libro che ho scelto per questa rilettura collettiva o lettura per la prima volta però insomma insieme in collettività più totale è Night Circus di Erin Morgenstern ovvero il circo della notte è disponibile anche in italiano in generale tutti i titoli che proporrò cercheranno sempre di essere disponibili sia in inglese che in italiano in modo che tutti indipendentemente dal livello di lingua possiate accedervi in inglese questo è un livello intermedio quindi è un B1 B2 quindi se volete magari provare a buttarvi su qualcosa per la lettura in lingua che non sia proprio entry level questo è anche una buona occasione per farlo appoggio un attimo il libro poi vi spiego cosa faremo vorrei che ogni settimana a partire dal 15 di febbraio in poi ci si trovasse almeno una volta a settimana a discutere un po' sui vari progressi eccetera vorrei comunque cercare di rendere tutto il più semplice e lineare possibile quindi i passaggi saranno più o meno questi ovviamente su Instagram io vi darò qualche aggiornamento come faccio sempre nelle stories quindi se non mi state seguendo seguitemi però sarà una cosa un po' molto semplice mentre su Facebook almeno una volta a settimana vorrei dedicare un post sia con i miei progressi sia anche per discutere un po' sul punto in cui siete su come vi sta sembrando il libro eccetera eccetera in modo da isolare uno spazio io ho una pagina Facebook che è morta e sepolta quindi forse questa è anche l'occasione un po' per risollevarla giù nell'info box trovate ovviamente tutti i link e ci concentreremo lì per un po' parlare alla fine del mese quindi a fine marzo vorrei fare una live tutti insieme nel quale parlarne e discutere anche per capire un po' le vostre impressioni per discutere anche un po' delle mie impressioni a una rilettura e quindi insomma questo penso sia un buon modo per leggere qualcosa di stimolante insieme che a me è piaciuto tantissimo io davvero Night Circus è uno dei miei libri preferiti quindi che dire e niente quindi insomma io spero che l'iniziativa vi piaccia fatemi sapere se parteciperete se vi farebbe piacere partecipare anche in futuro man mano vi darò qualche titolo quindi insomma se avete piacere benvenuti nel Miss Fiction Book Club perché GDL mi faceva un po' schifo non mi piaceva come nome quindi insomma questo book club virtuale spero che insomma porti tante persone un po' a leggere tutti insieme titoli che secondo me sono molto validi e che vorrei ovviamente condividere insieme a tutti quindi niente io spero che questa sia una buona occasione per tutti se parteciperete mi farebbe davvero tanto 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 piacere anche perché è la prima cosa che dico e poi effettivamente faccio quindi insomma sono molto contenta di questa iniziativa mi fa piacere avervi sentito così carichi di partecipare quindi bando alle ciance ci vediamo nei prossimi giorni allora ciao